A seguito della recente bomba d'acqua che ha colpito Corigliano Rossano, il ritorno alla normalità è stato confermato dalle autorità competenti. Dopo la conta dei danni, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo. Tuttavia l'evento non è stato esente da disagi, tra cui la presenza di un numero farlocco nella protezione civile comunale che ha causato ritardi nei soccorsi. Noi abbiamo attivato un numero che è stato comunicato al sito istituzionale, l'ho comunicato anche io sui miei social e tutte le segnalazioni che sono arrivate a quel numero sono state prontamente eseguite. C'è ogni tanto un po' di accavallamento di numeri o addirittura numeri che probabilmente non sono neanche funzionanti. Questa notte a un certo punto è girato un numero in alcune chat che non era neanche del comune. Stasi ha inoltre risposto alle preoccupazioni dei cittadini riguardo al funzionamento degli impianti durante la bomba d'acqua. Le pompe si attivano, le pompe non si attivano. Ormai da due anni le pompe si attivano automaticamente e noi le telecontrolliamo a distanza. Schiavonea rimane l'area maggiormente vulnerabile agli allagamenti. È già stato preannunziato un finanziamento per la soluzione del problema. I punti più critici. La parte più bassa del Palmetto, quella in corrispondenza di Via Cervia e quella tra il Palmetto e la Madonnina, sono le zone che sappiamo essere quelle più basse. Fortunatamente abbiamo quasi del tutto risolto ormai il problema di Rivabella, che è un impianto importante, per cui Rivabella ha sofferto molto di meno rispetto al passato. Quindi restano queste due zone critiche. Lì c'è un fattore storico, quello di un impianto idrovoro importante, la cui però rete di raccolta è inadeguata.